ciao ciao ragazzi e ben ritrovati nel mio canale nella mia cucina mi hanno chiesto come si chiudono le braciole che si fanno a bari da molti chiamati involtini beh io vi mostro qui il metodo allora ho utilizzato la carne per fare per mangiare la carne cruda come si chiama la il carpaccio per fare il carpaccio basta chiedere al macellaio e loro ve la danno molto sottile e in mezzo ho messo un pezzo di formaggio parmigiano un pezzo di aglio e il prezzemolo ho avvolto e poi messo nel sugo se vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like mi raccomando se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale noi ci vediamo alla prossima ricetta ciao ciao e venitemi a trovare su instagram ciao